bentornati ragazzi oggi vi porto una giocata diversa dal solito uno sperimento che abbiamo fatto lì nel nostro campo all'arena canicciolti eravamo un bel numero di operatori circa una trentina abbiamo fatto quindi un attacco molto numeroso circa una ventina di operatori con due medici che potevano rianimare infinite volte i loro compagni e una difesa mobile che aveva rigenerazioni finite bastava solo andare all'interno di un edificio al centro del campo per tornare in vita vi lascio al video e buona visione colpito chi dice che mi ha sparato scusa colpito che esce colpito 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 Ah no, io te... Ah, tengo la chapa o no? Te lo sto tenendo tutti, è la dietro comunque, se non l'ho colpito perché non capisco, ce n'è uno dietro là, eh ti ho vinto mamma l'otto, hanno niente, è la dietro là. Scusami! 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 Colpito! Scusami! Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Adesso appena alza la testa... Ho colpito, cazzo non sento roba di madre. Anche l'ho là, ce n'è un altro là dietro. Ho sentito morto ma non capisco... Con quanto spari non è facile capire. Devo lanciare la mano, è una roba importantissima. Ando in piena faccia. Ho capito che uno non me lo chiami. me ne avevi tre addosso eccolo la l'ho visto ecco la testina l'ho visto puntare di la mi ha fatto il pelo adesso c'erano in due cazzo 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 cazzo